Facciamo la radio, un po' di radio qui a Radio DJ, veniamo. No, ma noi ci abbiamo già. Siamo troppo vecchi per voi. Ma che... Il humorismo è vecchio. Diciamo allora che stasera con Baldini, perché questo non faremo adesso, abbiamo pensato di fare quello che facevamo a Radio DJ. Facciamo una cosa adesso, mettiamo una canzone e poi raccontiamo quello che facevate. E quella lì, guarda, se vuoi puoi annunciarla tu. Che cazzo? Cos'è? Te lo ricordi? Snoopy Doggy. E Snoop Dogg. Snoop Dogg è quello che si fa a tutte le ballerine. Sì, non solo da sentire questa canzone. Ho sentito dire solo di Snoop Dogg che è veramente... Ha un microfono grosso. Ha un microfono grosso. Ed è una canzone dedicata a te quando sei arrivato qui. Young, wild and free. Giovane, selvaggio e libero. Ma ero molto selvaggio. Ehi ragazzi! Fatto è bello stare qua. Io fumerei. L'unica cosa che ho ripreso a fumare. Quello da perché ragazzi? Ho smesso cinque anni. Ma veramente? Quando hai ripreso? Ok. Durante il programma ho ripreso. Ho ripreso. Ragazzi c'è la... No, no. Vedo adesso giusto. Stavo dicendo una cosa che... Ma voglio smettere. Io mi sono imposto una cosa. Eggi la... Non quando non la trovo. Senti, ma il mio cellulare dov'è? No, l'autocellulare. Allora, ci stai provando. Senti, sta cosa della tv così ti piace però? Noi abbiamo fatto la tv però era... Era troppo tv. Era... Cioè, era radio però... Sapevamo che era... Invece così è... È molto più. Perché mi piace... Ecco, questo? Sì, sì. Questa è la parte più bella. Perché ti frega, no? C'è che... Comunque ti lasci un po' andare. Cicchetto, l'altra volta. Guarda, io al telefono mi faccio... Oh Claudio, tutto bene così? Eh, ti sto vedendo. Lui fa... Dove? Ma come dove? Sei in tv? In televisione. Lui non lo sapeva perché... Deve essere a dimenticare. No, dicevo con mia madre... A un certo punto sentimi su DJ. Lui gli ho spiegato. Vai sul 700. Vai al 700, va bene. E ora ci sono le frecce. Quale frecce? Quelle laterali. Ciao mamma. Laterali. Vai di là. Poi a un certo punto, dopo che gli ho fatto fare... Si è messa su DJ, l'ho richiamata e ha detto... No mamma, ora fai ESC. Perché se no rimane sul mosaico, no? Ah certo. Fai ESC. Come ESC? Che ESC? Allora lei mi ha letto, carina. Tutto il resto sentivo. Mi ha letto tutte le cose. Guida TV. Tutti i tasti di Sky. E Sky ha fatto ESC. E ora vai sul 145. E fa... E c'è Linus e Nicola Savino. Mi conosce tutti e due. Va bene, conosciamo. Sì eh. Allora mia mamma mi ha detto... Mi ha detto... Bravo quel Nicola Savino a presentare. Ah 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 ah. Bene, bene. Oh, il viaggio... Guardati, Alberto Sordi, cosa diceva? Quando disse... Corato. Ah, Corato. Ah, Corato. Ah, velchia importante, ma che mia mamma ti offre. No, però in questo momento ti vedono, ti sentono. Sì, certo. Però a signora è importante. A signora è importante. Il Corato era fantastico. Ma voi... Senti, questi sono i guanti... Oh, i guanti per l'iPhone. Questo quando ha twittato... Ma si può? Perché non fanno i guanti? Io già ce li avevo da... Ce li aveva da tutto il mondo. Tutto il mondo. Io non sarei molto... Guarda che te li ha fatti trovare lì il tuo amico. Non ha detto, non ha detto. Ma anche lui sai che è un pigrone. Ma questa cosa mi piace proprio. Questa cosa mi piace. Ma dovrei... Io non c'ho il cellulare... C'ho io, c'ho l'iPhone. No, questo. Cellulare familiare. Poi l'iPhone... C'ha il family. Senti che adesso viene su Twitter, eh. Dai, ieri abbiamo fatto un video in cui dicevamo che veniva su Twitter. Ma io lavoro, non ho un cazzo da fare come voi. Dai, vai, vai. Allora, dice vai, vai, vai. E quindi young, wild and free. Molto giovane, molto selvaggio e molto... Ma ti ricordi il passaggio? Io entrai... Indimenticabile. Indimenticabile. Appena arrivato a Milano. Cioè proprio appena arrivato. Appena arrivato dovevamo andare ai studi che erano? A Cinisello Balsamo, credo. O in via di amici. Sono uno dei due. E a un certo punto io ero appena arrivato... Che programma era? Dopo undici anni di villaggi consecutivi. Anche quindici. Quindi diciamo un po'... No, no, una cosa incredibile per me... Non sapeva che moneta c'era in Italia. Posso raccontare... Non so se ti ricordi quella di Amadeus del libretto degli assegni che è molto bella, molto bella. No, perché sai perché? Essendo stato fuori dal mondo per tanti anni, avevo veramente difficoltà ad attraversare la strada. Con le cose pratiche. Con le cose pratiche. Bingo bongo, c'è lentano, diciamo adesso. Sì, io avevo... Oh, arriva da mangiare. Vero. Sì, è qualsiasi cosa. Sono pasticcini, eh. Sono pasticcini. Roba pericolosissima, da guardarla. Ascoltatori, entrano chiunque. Ah, c'è proprio così. Rai non è così. Carta di identità. Sì, metal detector. Doccia di sangue. Visto Fabio Volo, è emozionante vedere Fabio Volo. Dal vivo, eh. Vedere uno scrittore dal vivo. Dicevamo... Ad Amadeus. Era vamo ad Amadeus. Allora Amadeus dice, ah ma tu hai la Banca Popolare di Milano, che nel frattempo credo non esista più. Credo. No, no, no. No, quella filiale, intendo. Però un po' lo di credito. Quella filiale, quella filiale. Si impegnero anche la quotidianità. Tu hai la Banca Popolare di Milano, quella di fronte a Sergio Fisio. Sì, quella banca. Ah, ecco, senti, mi presti un foglio dei tuoi, degli assegni, che devo fare un assegno? E lui mi guarda? E stava per staccarlo, perché lui ha fatto così, come dire, come dire, ma perché scusa? No, perché io ho finito i miei. Tanto fa fede la firma, no? Cioè loro, siccome firmo io, sanno che i soldi li devono prendere da me. Ci ho provato anch'io, ma con me non ha funzionato. Senti, quelli sono i personaggi di Viva Radio DJ che sono rimasti più nel cuore? Il Circo Calabrese, forse. Radio Rosalie e Circo Calabrese. Però ti posso dire, avevamo, si può dire, precorso i tempi. Certo. Perché facevamo dei personaggi che all'empoca non erano grossi personaggi come oggi. Uno su tutti, salvo Sottile. Lo Sottile, è vero. Cioè, salvo Sottile. Cominciava i quelli. Cominciava perché faceva l'inviato di Canale 5 per Tg5 e faceva il viato da Palermo. Da Palermo. Ma era giovanissimo, c'era, non lo so, 18 anni. Il suo padre già era un giornalista televisivo. E lui faceva sempre i servizi sulla mafia. E la cosa che mi aveva colpito... In realtà lui faceva a Palermo. Poi a Palermo evidentemente tre su quattro. Ma era, faceva servizi... Ai tempi era quello. E diceva tutti i nomignoli dei mafiosi, no? C'era... E in questo momento è stato Totorino, ha detto Ucurtu. E diceva tutti questi... E noi facevamo questo. E poi Bruno Vespa. Noi facevamo Bruno Vespa come giornalista da Tg1. E aveva il suo meccanico che gli aggiustava la Vespa che era Michele Cucuzza. Che non conosceva nessuno. E gli diceva, ma chi è? E poi un'altra, se ti ricordi, era... E gli faceva... La sciattanino. La sciattanino. Quindi personaggi che all'epoca non erano personaggi, però quelli che ci sono rimasti nel cuore sono il circo calabrese. E in particolare poi dentro il circo calabrese c'era l'uomo a tre teste, poi c'era Ufachiro, l'uomo cannone e la scimmia. E stasera vorremmo rifarli. Non ricordo più la scimmia. La scimmia. E lo faceva... Pronto? Pronto? Sono il direttore. Ah, buongiorno direttore, come sta? Tutto bene. Dove si trova con il circo? Acropani. Acropani, va. Non ci spostiamo tanto dalla calabria. Non abbiamo i mezzi. Ah, è certo. Vuole che gli passo qualcuno? Sì, sì, sentiamo. Pronto? Ancora il direttore? No, sono la scimmia. Ah, salve, scimmia. Ho capito. E come va? Come va? Ho gli occhi rossi. Perché? Sono flashata. Ah, certo. Perché a scimmia gli facevo le foto. E poi invece il circo, diciamo che è l'uomo a tre teste e il Fachiro lo facciamo stasera. Lo facciamo stasera. Lo faremo stasera. Sì, sì, ok. Senti, ma io devo... Mi serve il cellulare e devo riprendere. Per Twitter? Per Twitter. Ma vuoi dire qualcosa, Linus, del suo debutto su Twitter? No, no, no. Ho parlato con Lorenzo della tua passione per Twitter e lui mi ha detto una cosa interessante. Sai che Lorenzo è uno che osserva tanto e poi... Che poi a un certo punto io me sono dato per due settimane. Eh, dice no. Secondo me per Fiorello Twitter è un po' la sua radio quotidiana. Cioè lui è uno che ha bisogno di un veicolo sul quale esprimersi non potendolo fare in televisione o al citofono. O al programma in radio o al citofono. La sua radio è Twitter. È vero. Cioè ragazzi, guarda che è incredibile. Allora, la cosa di ieri, no? Di Snyder. Sì, sì, sì. Di Snyder. Stavamo sul treno con lui. Snyder chi? Il giocatore? Eh? Sì, sì, ha scritto a Snyder. Cos'è? No, ma io non è stata una cosa di mia iniziativa. È stato tifoso proprio tu. È stata una cosa... Leggo, Fiore fa il retweet che stiamo facendo la petizione di Wesley. E comincia da rimanere. E io, come tutti... Certo, intervista, a me Snyder piace. Secondo me è un ottimo... Quando esce cala il buio. Faccio sta cosa su tweet e la faccio. Guarda un po' i giornali di oggi. E la ripresa. Fiorello... Ma la cosa più buffa, posso dire la cosa più buffa riguarda la pubblicità? Eh? La cosa più buffa è che qualcuno ha tweetato. Certo che però Baldini che ti ha rubato il posto che è il tuo amico. Ma seri? Ma seri? Beh, io l'ho pensato. Senti, ma qui quando finisce che mi piace... A dieci minuti, dieci minuti. No, noi non mettiamo mai più... Ma scusate. No, mettiamo ancora un disco e poi facciamo... No, ma un dischetto strano. Mettete, cosa vuoi mettere? Cosa vuoi sentire? Un disco mio. Vai, quale disco vuoi? Ma perché lo prendono al volo così? Sì, il capolavoro della discografia. Adesso vediamo cosa abbiamo. Bravo. Alex si elenca quello che abbiamo. Io vorrei... Aspetta, vai. Vorrei il primo che ho fatto. No, no, no. Questa non ero più a radio DJ qua. Al turno, no. No, no, aspetta, aspetta. Via, via, via. Ma è, ma è. Aspetta, questo è Boris Douglas. Questo cos'è? No, questo non ero più a radio DJ. Via. Questa non è... No. No. Ma quanto ci vuole, Levanto? Ci vuole un po' di tempo. Questa era a Sanremo, ma è triste. Ma spiagge non ce l'hai? Eh, quella che era in casa. L'arriva, l'arriva. Alex, aspetti sì o no? Eh, quella è un capolavoro. Sì o no? Dai, sì o no? Sì. C'è, eccola qua. Ma questa era bella, eh? Ehi ragazzi, benvenuti alla Quaffa Indirizione. Sulle mani. Sono arrivato al numero due in classifica dei 45 con questo. One, two. C'è il one, two che era bellissimo, senti. Ah no. Arriva dopo, arriva. Ma qui dove si parla? Parla adesso. In diretta? Eh, vai. Doppia, doppia. Ma stasera la faccio, sai? Dai, dai. No, è un mille. Doppia, è un mille. One, two. Pelle bruciata, occhiali da sole. La noia resta in città. Ancora gli ammolo. Granite, cocco, la minchia al limone. E tu che suoli il tal-tan. Poi c'era tutti i varianti. E tornerà alla sera. E si va per l'avventura. Vai, Bardo. Qui c'era guaccio. E qui si parlava e si mixava. Grazie. Salutiamo Matteo Bonsanto. Matteo Bonsanto che vedrai questa sera. Ci sarà. Secondo me avrà pronto già un tempo da farti fare. Sì, sicuro. E avrei una cosa da darti. Ma sì o no ce l'hai? Certo. C'è? Eh. Capolavoro, signore. Accendini. Ah, qui devo dire, Claudio Cecchetto, no? Mi propone di fare sì o no. E io gli dico, ma Claudio, ma c'è già Please Don't Go che ha avuto veramente un gran successo. Figurati se può avere successo una cantata da me con sì o no. Sai come è lui? Allora, no, qui perché io ti dico che... Hai ragione. È una cosa prima in classifica questo. Prima in classifica. Che tu mi vuoi sì o no. Canzone usata, canzone usata, poi il referendum, poi c'è il referendum, la metto sotto.